Di niego e archiviazione della richiesta della società Ecoplant, che non potrà quindi produrre combustibile secondario trattando rifiuti in via Riglio, nell'area industriale di Cremona-Cavatigozzi. Il settore ambiente dell'ente e provincia ha deciso in modo definitivo e pubblicato un decreto del dirigente Roberto Zanoni. L'allarme tra gli ambientalisti era stato elevato, dato che la produzione progettata da Ecoplant ha fatto pensare subito a una chiara destinazione, l'inceneritore. La società brisciana e cremonese ha poi smentito di voler conferire l'inceneritore di via Antichi Budri, confermando però le caratteristiche della propria attività, che comunque non si svolgerà per il rischio idraulico. Il progetto intendeva aggiungere a un'attività di cernite stoccaggio di rifiuti già esistente anche un impianto di trattamento da 100.000 tonnellate annue, che avrebbe interferito però con il reticolo idrico minore, cioè con i corsi d'acqua della zona del porto canale, a pochi metri da via Riglio 24. Ci sarebbe stato anche un consumo di suolo con la costruzione di un nuovo capannone. Provincia e polizia locale del comune di Cremona hanno fermato l'attività, anche perché non basta la modifica di un'autorizzazione preesistente per giustificare un impatto ambientale che sarebbe stato anche di tipo acustico, con incremento del traffico di mezzi pesanti in un'area già duramente provata. Se l'area industriale cresce continuamente, d'altra parte, anche le proteste degli abitanti non si fermano. La settimana scorsa il comitato di quartiere 3 ha segnalato di nuovo odori acri e irritanti. Chiudere le finestre a diversi cittadini non è bastato, in particolare nella zona dell'oratorio i miasmi entravano in caso ugualmente. Siamo una casta minore noi abitanti di Cavatigozzi, ha scritto il comitato di quartiere su internet. In nome del progresso e del diritto al lavoro si danneggiano le famiglie dei lavoratori, le mogli e i figli. Le novità non finiscono mai. L'azienda Sol ha ricevuto a metà luglio dall'ATS Valpadana l'autorizzazione a custodire, conservare e utilizzare 120.000 kg di anidride solforosa, un gas tossico a condizione di rispettare la misura protezionistica. Sono 5 le industrie a rischio di incidente rilevante in un'area di circa 2 km2, oltre a una centralina biogas, depositi di rifiuti, stoccaggi e discariche industriali, mentre la valutazione di impatto ambientale sull'intera zona non si fa. Ogni volta si considerano solo singole iniziative.